ariete tenete d'occhio una persona che sembra avere qualcosa di nuovo da offrire con il suo nuovo aiuto riuscirete a rendere un po più emozionante la vostra giornata toro potrete guidare gli altri verso una clamorosa vittoria oggi mentre il vostro cammino potrebbe essere disseminato di ostacoli gemelli non sarà facile capire quando è il momento più opportuno per agire oggi dovrete affidarvi all'istinto in più di un'occasione cancro potreste produrre una prestazione di tutto rispetto che vi procurerà le lodi e l'ammirazione di molti non però della persona su cui volevate fare colpo leone l'eccessiva sicurezza può dimostrarsi pericolosa cercate di essere sempre molto realisti riguardo a ciò che è possibile e a ciò che siete in grado di fare vergine nessuno vi impedisce di cambiare le cose ma dovrete farlo lentamente una persona vi osserva e ha un consiglio prezioso da offrirvi bilancia state in guardia oggi perché una minaccia potrebbe materializzarsi e colpirvi alle spalle un semplice gesto potrebbe ridurre il pericolo scorpione siete alla ricerca di qualcosa di migliore e più grande ma se non riuscirete ad ottenerlo potrete essere più che contenti di ciò che avete sagittario c'è un grosso cambiamento nell'aria ma una persona cara continua ad esprimere le sue perplessità al riguardo non riuscirà però a spegnere il vostro entusiasmo capricorno attenzione a fare le scelte giuste oggi tenete gli occhi fissi sulla strada e guardate bene dove mettete i piedi potrebbero esserci delle trappole lungo il cammino acquario potreste provare una forte nostalgia per il passato oggi fino a quando il presente non inizierà a prendere forma e non sarete soddisfatti di ciò che vedrete pesci otterrete molti riconoscimenti personali e dentro sera avrete qualcosa da festeggiare